Seguiranno ora alcune marce militari. La prima come titolo parata di eroi ed è una tra le più note marce militari italiane, suonata in tutte le cerimonie militari e molto spesso anche in quelle civili. La seconda dal titolo Milite ignoto ed è dedicata ad un militare morto in guerra il cui corpo non venne mai identificato. La salma riposa a Roma nel mausoleo del Milite ignoto per rappresentare tutti coloro che moriranno in guerra e le cui salme non furono mai identificate. Seguirà infine la marcia militare del 2 giugno composta per ricordare la nascita della Repubblica Italiana avvenuta appunto il 2 giugno del 1946. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.